bella ragazza a tutti del comandone veneziano le ragazze ho visto un po di messaggi purtroppo non carico da un po video e niente fioi sono capo nel senso da un po di tempo che andava avanti con un'ernia e adesso purtroppo aumentata c'è dolore aumentato quindi faccio fatica a camminare non riesco neanche a stare seduto e da 20 giorni circa che sono a casa dal lavoro non posso proprio registrare perché i dolori ci sono posso fare poco in questo periodo sono solo a letto e niente altri dolorifici punture e robe varie io spero di riprendere più presto però per il momento chiaramente non posso registrare anche fare questo video purtroppo è fatica è stato ogni tanto stare al portatile mi faccio anche partita fifa però più di tanto non posso fare purtroppo niente ragazzi è così anche il comandone ormai un vecchiotto e niente purtroppo una cosa neanche troppo corta perché sono cose abbastanza lunghe queste però dai speriamo di ritornare almeno l'ottanta 80 per 70 per cento prima possibile ecco perché veramente fastidioso e molto molto doloroso però volevo fare un video perché insomma mi sembrava giusto visto che ho creato dei messaggi dove il come dove il come è il come è i box purtroppo quindi per adesso è così niente ragazzi appena possibile tornano a caricare e niente per adesso riposo 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 infatti anche col lavoro la prima volta che sto a casa così tanto ma d'altronde se fai fatica a camminare non puoi non proprio far nulla c'è anche andare in bagno diventa un un'impresa portavo per ne tutto nervo sciatico e quindi sono dolori niente ragazzi su tutto il comandone veneziano si risentiamo più presto niente grazie per il supporto è un abbraccio ciao ragazzi alla prossima